Un'altra sorpresa nella sorpresa, voi sapete che i telefilmi, i film americani sono doppiati e devo dire che in questo campo, nel campo del doppiaggio, noi abbiamo grandi successi perché abbiamo grandi doppiatori. Io ho portato la voce di Angela Lesbori, Alina Moradei. Signora Moradei. Allora, noi abbasseremo le luci, passerà un anello e tu appunto doppierai Angela Lesbori. Allora, ecco la voce italiana della signora in giallo. Parte il nostro contributo? Se voleva andarsene non avrebbe perso tempo a pulire la macchia di vino sul vestito e non mi avrebbe detto che sarebbe ritornata nel vagone ristorante. Allora perché ha lasciato la sua borsetta sul tavolo? Io credo che Sara sia stata rapita o peggio ancora. Brava, brava. Fatto così al volo, guardate, è difficile. È difficile, signora Moradei, così al volo, senza avere lo schermo grande, senza poter seguire. No, in genere c'è un leggio e si doppia con il leggio, però è... Crede che sia proprio vicino, vicino alla sua voce. Vicino alla sua voce, vera. E quindi molto interessante. Allora, salutiamo un po' degli amici. I'm very happy that such a lovely actress is playing my voice in the series. Ed è felice che sia un'attrice così brava a dare la voce in Italia al suo personaggio. Consigliamo il telegatto Raffaele Paranini e Tosca di Sette Spose per Sette Rotele. Consigliano il telegatto, questo cult veramente della televisione, Angela Lesbori. Complimenti. Vili grazie. Grazie Alina, grazie a Gli Amore dei. Io accompagno Angela.